Nei giorni scorsi una nota congiunta di CGL, Filt, Fitcisle e Will Trasporti con cui si chiedeva a Sua Eccellenza il prefetto di Taranto l'immediata convocazione del tavolo provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per affrontare un problema che si sta trasformando in una vera e propria emergenza sociale. Le sassaiole e i danni degli autobus urbani con gravi rischi a autisti e passeggeri. Ancora nella nota in vista di Halloween i sindacati chiedevano la sospensione del servizio urbano a partire dalle 22 del 31 ottobre al fine di prevenire episodi di vandalismo che nulla hanno a che vedere con il tradizionale dolcetto scherzetto. Chi ma mobilità con proprio comunicato preannunciava la sospensione del servizio per le 22. Ebbene l'incontro in prefettura c'è stato, presenti i vertici delle forze dell'ordine, l'assessore alle società partecipate del comune ed il presidente di Chima Mobilità. Ne è scaturita la decisione di assicurare i servizi di linea degli autobus secondo gli orari normali, dunque nessuna riduzione. Le forze dell'ordine assicureranno particolari controlli a partire dalle 17 del 31 ottobre, mentre la polizia locale attenzionerà le zone più a rischio, dunque Paolo VI, Porta Napoli e Tramontone. Ma rimaniamo in ambito Chima Mobilità. In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, i cimiteri sono visitati da un notevole flusso di persone che vi si recano per onorare i propri cari defunti. Ed anche gli orari di visita si allungano notevolmente. Chima Mobilità per venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre, dalle 7 e fino al tramonto, rinforzerà il proprio servizio con corse speciali aggiuntive e modificando il percorso di alcune linee degli autobus che in tal caso riporteranno, oltre al normale indicatore di linea, anche la dicitura cimitero. In particolare per il cimitero di Talzano è previsto ogni 90 minuti uno speciale servizio navetta che lo collegherà con Zambito e Lama. Inoltre sia all'ingresso del San Brunone che del Santa Maria Porta del Cielo sarà presente personale di Chima Mobilità per la vendita di biglietti ordinari per gli autobus. Tutte le informazioni le trovate su www.chimamobilità.it